Da oggi Galaxy J, che conosci e che ami, diventa il nuovo Galaxy A. Progettato per la nuova era del live, Galaxy A è il massimo della tecnologia mobile. A portata di mano. La nostra batteria più potente non è solo più carica, dura tutto il giorno. Così sarai sempre connesso. Con la tecnologia di ricarica veloce, non avrai più limiti. Le fotocamere di Galaxy A sono perfette per una vita live e per rendere unico ogni tuo istante. Grazie alle lenti ultra grandangolari, vedrai di più. Così potrai condividere ancora di più. L'Infinity Display con tecnologia Super AMOLED ti regala immagini straordinarie che si faranno notare in ogni condizione. Basta un semplice tocco e con il lettore d'impronta integrato nello schermo, sbloccherai lo smartphone in un attimo. Tutto questo è Galaxy A. Scopri una nuova generazione di Galaxy A per vivere le tue emozioni live. Vai! Ciao!